Tanta droga, prevalentemente cocaina, al porto di Salerno direttamente dal Sud America. 18 arresti, 37 persone indagate, alcune delle quali dimoranti al di fuori del territorio nazionale. È l'esito di un'attività di indagine che porterà ad ulteriori risultati quella che ha portato questa mattina le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ad eseguire 18 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di numerosi soggetti indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa avviata in seguito al sequestro di tabacchi lavorati esteri presso il porto di Salerno a marzo del 2018 dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha permesso di risalire ad una strutturata organizzazione operante nelle province di Napoli e Salerno composta da persone già note alle forze dell'ordine per precedenti specifici. I dettagli dell'operazione sono stati forniti questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Via Duomo alla presenza tra gli altri del generale Danilo Petruccelli, del procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale, del colonnello Oriol De Luca pronto ad assumere nei prossimi giorni l'incarico di comandante delle fiamme gialle di Salerno e dal sequestro di 18 chilogrammi di cocaina provenienti via mare dal Sud America e nascoste all'interno della ventola del vano motore di un container frigo e successive intercettazioni che è stato possibile individuare un collaudato sistema di approvvigionamento di droghe che vedeva impegnati gli indagati in continue serrate trattative con diversi fornitori di nazionalità estera interessati al trasferimento di cocaina dai paesi del Sud America. Due le modalità operative con le quali si gestiva il traffico, rapporti con spedizionieri, operatori portuali collusi, faccendieri dediti alla ricerca di contatti all'interno del porto di Salerno o comunque in grado di consentire l'uscita della droga dagli spazi doganali eludendo i controlli di routine effettuati presso lo scalo portuale di Salerno. Altro sistema quello impresa impresa con ditte di spedizione di destinazione compiacenti che con documenti a supporto permettevano il trasporto della merce illecita occultata in carichi di copertura all'interno di container, poi il recupero del narcotico in marina furtiva mediante ingresso non autorizzato all'interno dello scalo marittimo e prelievo dei borsoni nascosti all'interno di container. Importante il sequestro di cocaina effettuato dalle fiamme gialle. Nel corso delle complesse investigazioni è stato ricostruito anche il valore di cessione della cocaina che all'ingrosso veniva pagata a 35 mila euro al chilogrammo. Sostanzialmente sono stati individuati due modus operandi. Uno quello di far arrivare lo stupefacente nel porto e poi intervenivano dei soggetti sul posto per rimuovere lo stupefacente e portarlo poi sul territorio nazionale. In altri casi invece la spedizione da impresa ad impresa per cui nell'ambito dell'impresa destinataria dei dipendenti compliacenti sapranno esattamente dove andare a recuperare la droga. Tra gli arrestati ci sono portuali del porto di Salerno e lavoratori di imprese di servizi del Salernitano? Allora premesso che le indagini sono in corso quindi determinati profili di responsabilità ancora non sono stati definiti però tra i 37 indagati non ci sono profili di questo tipo. Le indagini sono state particolarmente complesse anche con dei profili internazionali quindi sono state adottate misure di cooperazione internazionale come evidenziata ad esempio dalla collaborazione con le autorità nordamericane che hanno portato al sequestro di 157 chili di cocaina che inizialmente destinati in Italia sono stati poi dirottati nel nordamerica e sequestrati in Canada presso il porto di Halifax. L'indagine possiamo dire che ha avuto un'accelerata dopo il sequestro di 18 chilogrammi di droga che ha messo un attimo in discussione l'organizzazione criminale? Sì questo è un elemento interessante di tutta l'indagine perché l'essere intervenuti per rimuovere lo stupefacente prima che intervenissero i destinatari ha creato un momento di confusione nei rapporti tra i narcos sudamericani e destinatari del prodotto perché evidentemente è saltato il rapporto fiduciario non sapendo esattamente se effettivamente lo stupefacente era stato spedito o in qualche modo non era andata a buon fine la consegna. Infatti non è stata data notizia di questo sequestro e sono dovuti intervenire degli emissari sul posto per verificare effettivamente cosa potesse essere successo. Probabilmente si è trattato di una spedizione campione per verificare diciamo le modalità di spedizione e vedere se eventualmente in momento successivo si potevano spedire carichi ancora più importanti.